Ciao, buon Natale! Lo sapevi che il 25 dicembre è il compleanno di Gesù? Quando noi festeggiamo il compleanno di una persona, vogliamo dirgli quanto siamo contenti che c'è, quanto gli vogliamo bene, quanto siamo grati di tutti i doni che ci fa. Gesù ci vuole tanto bene, ci ha fatto tantissimi doni. Lui è proprio come un albero pieno di buoni frutti da mangiare, come l'albero di Natale!